Allora Moreno qui a Porto Antico tu giochi in casa perché tu sei genovese, dove ti porterà la musica quest'estate? Ma quest'estate già domani io sono a Sant'Elpidio a suonare, il 12 sarò a Terrazzini vicino a Palermo, il 14 a Napoli, il 15 e il 16 finirò le riprese di un mio freestyle, quindi diciamo una settimana è piena, spero che la musica invece in risposta mi porti sempre in giro e il più lontano possibile. Ascolta, il rap tu lo interpreterai fino a quando? Fino a quando sarò sulla terra penso, sarò comunque interprete di questo genere musicale, magari non sarò sempre io il performer a metterci la faccia, nonostante che vedere J-AX che comunque se non sbaglio non voglio dire la sua età ma io la so perché c'era uno dei suoi compleanni, vedo che si difende ancora benissimo e direi che è un esempio anche per tutti i giovani per continuare a vivere di musica e di sogni. Grazie Moreno. Grazie a voi, ciao ragazzi. Grazie mille. Grazie mille, buon lavoro, ciao.